Wahey Kooj, ben ritornati da vostro, l'Andrea di Cronturo su Inazuma Eleven 2 Nuovo episodio, dobbiamo andare a esercitarci con la mano insuperabile al fiume insieme alle vecchie glorie dell'Inazuma Avrei ancora qualche squadra da affrontare Però, se non ricordo male, questo capitolo è bello tosto, quindi può darsi, potrebbe essere che faccio tre parti Forza ragazzi, siete in ritardo, non è il momento di battere la fiacca E così questi sarebbero i membri originali dell'Inazuma Eleven Ah, tu devi essere Darren, abbiamo sentito parlare molto di te Avanti non abbiamo molto tempo, dobbiamo subito iniziare ad allenarci con la mano insuperabile D'accordo, grazie per esservi offerti di aiutarci Mano insuperabile Ancora nulla, peccato Ancora nulla, eh La mano insuperabile Chi avrebbe mai detto che ci fossero ancora tecniche simili in circolazione E' proprio tipico di David tenersi un tale asso nella manica Mark, davvero non ti importa che questo piccolo sfrontato impari la mano insuperabile Giù di metto che per padroneggiare la mano insuperabile servono flessibilità e precisione Tutte le abilità che non mi appartengono I miei punti forti sono la potenza e l'audacia Immagino che non ci saremmo potuti aspettare flessibilità e precisione dal nipote di David Ah, ben detto Tu e tonon siete proprio fatti della stessa pasta Forse potrei imparare la mano insuperabile se diventassi più flessibile Ma per ora credo che Darren ne sia più adatto Capisco Stento comunque a crederci Quel ragazzino può davvero essere in grado di sfoderare una mega tecnica? Lo stesso David non c'era riuscito Non si preoccupi Darren ha del potenziale Ma ce l'ho fatto una volta sola Vorrei dire che dovrei impegnarti con tutte le tue forze e concentrarti al massimo Noi seguiremo i tiri E tu dovrai tentare di fermarli ricorrendo alla mano insuperabile Ci sto Mettetemi alla prova con il meglio che avete in serbo Tocca a me ora Devo difendere la porta della Raimon Devo essere all'altezza di Mark Ci siamo Non mollare Darren, puoi farcela Mano insuperabile Si è fatto un pochino male Accidente, ancora non ci riesco Stai tranquillo Darren, ci sei vicino Davvero? Ma... Cosa devo fare? Vedi Darren Sei riuscito a mettere in atto la mano insuperabile già una volta, giusto? Scommetto che in quell'occasione non ti sentivi così sotto pressione Rilassati ragazzo Cerca di divertirti Forza Darren Devi provare a farlo divertendoti Ma non c'è tempo per questo Devo padroneggiare la mano insuperabile Darren, calmati Facciamo una pausa Ma Mark Io sono un po' stanco a dire la verità Lascia che ti mostri il mio posto preferito Ti farà sentire meglio Il tuo posto preferito? Già vedrai che ti piacerà Ok C'è un solo posto che può essere caro a Mark La cima della torre di Nazmo Wow che panorama È straordinario vero? Voglio dire che fa sembrare tutti i problemi meno grandi Sì è proprio così Non eri stanco sul serio Odio Odio, rabbia, frustrazione Giocando con questi sentimenti è impossibile farcela in campo Farcela Non arrenderti Darren So che sei in grado di eseguire la mano insuperabile Va bene farò del mio meglio Oh guarda che ora si è fatta Me deve tornare indietro Devo prepararmi per altri allenamenti Eh sì Anche il portiere deve fare Non gli stessi allenamenti Degli altri calciatori Ma molto simili Oh ma quella è Nelly Oh ciao Mark Caspita A che serano tutti questi bagagli? Ho portato un po' di scorte di viveri per la squadra Visto che ho mangiato così tanto Oh grazie Nelly Non faremo sicuramente complimenti Io mi incammino signorina Nelly Mildred aspetta Avrei giurato che Dopo tutto questo allenamento Mi è venuta una fama da lupi Che cosa ti piace mangiare Mark? Ah? Perché ve lo chiedi? Sta cercando un'ispirazione? Ma figurati Ero solo curiosa Dunque vediamo Le polpette di riso sono fantastiche ma Diventerò libero Quindi devo sviluppare le mie capacità di resistenza Mark Hai dei ripensamenti? Riguardo a cosa? Ricordo a mettere darri in porta No figurati Beh un po' mi dispiace Giocare in porta era la cosa che mi accomunava mio nonno Lo so Ma ora il legame con la squadra sta diventando sempre più forte E penso che anche se mio nonno fosse qui Mi sprenderebbe a sperimentare anche altri ruoli nella difesa Sembra quasi sentirlo Mark non fare il fifone Almeno provaci Quindi sì Ci proverò Diventerò anche più bravo di lui Lì voglierà su di me lo so Sono sicura che ce la farai Mark Io credo in te Grazie Nelly Eh Mark avrei una cosa da dirti Dopo che avremmo sconfitto l'Alius Una cosa da dirmi? Non puoi dirmela adesso? Non ci penso nemmeno A volte sei proprio pesante Mark Beh gli hai messo la pulce E dici Voglio sapere cos'è no? Un messaggio? Oh è l'allenatrice Vi aspetto sull'autobus È urgente Sarà successo qualcosa? Dobbiamo scoprire subito di che cosa si tratta Andiamo Para 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 Eccomi l'allenatrice Oh Ah Mark Eccoti qui Dai un'occhiata alle ultime notizie Le ultime notizie? Trasmettiamo in diretta da un luogo dell'accaduto Prolombenti e anti-durto Continuano a investire la zona Distruggendo case ed edifici in tutta la città Oh no Si tratta Dell'Alius a car Cos'è stato? Che è successo alla tv? Quella Era la supernova della Genesis Non c'è dubbio Pronto? Ah Smith Cosa? L'Alius ci ha inviato un messaggio Sì Mandamelo qui Grazie Ascoltate tutti Sto per riprodurre il messaggio Folle primo ministro Questo è l'ultimo avvertimento Se le nostre condizioni non saranno accettate Il progetto Genesis Oggetterà il mondo intero nel caos più totale Il progetto Genesis Cosa? L'Alius ha altre mire oltre al Giappone Hanno intenzione di attaccare tutto il mondo Trasformeranno l'intero pianeta in una zona di guerra Prospettiva che si realizzerà comunque se non li battiamo Si realizzerà comunque Di cosa parli papà? È che Il detective Smith mi ha informato che quelli dell'Alius andranno rapita con l'obiettivo di mostrarle qualcosa Ma che lei non ha intenzione di rivedere la sua scoperta Suppongo che abbia a che vedere con gli avvenimenti recenti Immagino di non poterlo più nascondere Quando sono stato rapito ho effettivamente visto qualcosa Si tratta di un laboratorio che produce armi tecnologicamente all'avanguardia Armi tecnologicamente all'avanguardia? Ma sono alieni? Non dovrebbero avere già bizzeffe? Pare che l'Alius abbia dei complici tra gli esseri umani Un'organizzazione chiamata Gruppo Schiller Schiller? Non si chiamava così anche l'uomo che abbiamo incontrato alla Fosher? Si, è così Quando fui eletto primo ministro Astram Schiller, il direttore generale del gruppo omonimo Si mise in contatto con me Mi imposi di acquistare le armi prodotte dalla sua società? O ne avrei pagato le conseguenze? Non è bella Ma io sono contro la guerra e per questo ho sempre rifiutato la sua proposta Ma certo papà, un sacco di persone avrebbero sofferto altrimenti Tuttavia mi rendo conto solo ora Che il piano di Schiller è provocare una guerra su scala globale Usando l'Alius Academy Ma non capisco perché Scatenare il caosso sulla terra non può essere il suo unico scopo Non abbiamo nemmeno idea di come riesca a manipolare gli alieni O di cosa speri di ottenere sconvolgendo il mondo Il suo vero obiettivo rimane un mistero Il suo vero obiettivo? Schiller non è sempre stato così Un tempo erano alleato fidato Cosa potrebbe mai essergli successo? Tornerò a mio ufficio e mi metterò in contatto con i capi di stato del resto del mondo Mark Dobbiamo unire le forze e fare tutto ciò che è il nostro potere per tenere a bata l'Alius Vorrei che ne approfittaste per recarvi a partire al generale dell'Alius Schiller deve senza ombre di dubbio trovarsi lì Mark Dovete fermarlo quanto prima Tutto chiaro signore E' quello che pensavamo di fare fin dall'inizio papà Però mi chiedo una cosa In quale modo sconfiggere una squadra di calcio possa far si che Una società che produce armi su scala mondiale Possa essere fermata? E' strano Bene in Azmeleven Raimon Contiamo su di voi Lasciano perdere va A quanto pare il tempo degli allenamenti è finito Ma non abbiamo ancora perfezionato l'energia della Terra nemmeno la mano insuperabile Siamo sicuri di potercelo fare? Le impareremo in campo Esattamente come ho fatto io con la mano di luce Ma se anche Darren perfezionasse la mano insuperabile Siamo certi che sarebbe sufficiente a contrastare la supernova? Beh c'è un solo modo per scoprirlo Io mi fido di darren Ce la metterò tutta Mark Si parte appena siete pronti Prima dobbiamo dirigerci verso la foresta del monte Fuji Poi dobbiamo individuare il quartier generale dell'Alius Il laboratorio di Signore delle Stelle Il laboratorio di Signore delle Stelle Quindi è lì che affronteremo l'Alius? Sei preoccupato vero Axel? Ti stai chiedendo come faccio l'allenatrice a conoscere la supernova? C'è proprio quello che stavo pensando Inoltre è sempre stato a restiare raggiungere il quartier generale dell'Alius Fino ad ora Cosa Darren avrà in mente? Hanno sicuramente perfezionato la supernova Ma dovrà riuscire a ridurre la loro potenza È un metodo molto pericoloso Mark e gli altri potrebbero farsi male Tuttavia devo vincere È l'unica cosa che posso fare Per lui Parla con l'allenatrice quando vuoi partire Ma partiamo subito Sei pronto a partire Mark? Ok E raduno tutti sul campo prima di andare Preparerò l'autobus Ti farò sapere quando avrò finito Ascoltatemi tutti Sono davvero felice di avervi incontrato E di viaggiare insieme a voi per giocare a calcio Ehi Ma come siamo sentimentali Così mi fai a restire Ho incontrato tante persone straordinarie qui in Giappone Chissà quanti altri appassionati di calcio Sono sparsi nel resto del mondo Nel resto del mondo? Troppo forte fratello Non quanto agli alieni Sì 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 Voglio giocare a calcio con ogni genere di persona Per questo dobbiamo vincere e impedire a quelli dell'Aidus E riscatenare una guerra Siamo la squadra più forte del paese Non ci batteranno mai e poi mai Ce la faremo ragazzi Mark Sì Non perderemo mai e poi mai Sei sempre il solito eh Eppure è strano Ogni volta che parlo a Mark Sento di credere veramente alle sue parole Anche se non pensa mai prima di agire Saper agire è fondamentale fratello Per vincere serve spirito di iniziativa Nessun alieno potrà mai separarci Vero tesorino? Dobbiamo dimostrare di essere i migliori Noi domani e gli altri contano su di noi Va bene ragazzi Facciamogli vedere quanto valiamo Se ci riusciremo La vittoria sarà nostra Sì Eccolo Ora Che succede? Sento come una forza che si infonde in me È vero, ma cosa? Cosa è stato? L'autobus è a vostra disposizione Spero siete tutti pronti Ci può scommettere Forza! Sconfiggeremo l'Alius in nome del calcio e del sano divertimento Già! I loro cuori ora battono all'unisono Ed è questo il segreto Della tecnica e energia della Terra E il destino del mondo è nelle vostre mani Buona fortuna in Azuma Eleven Pronto? Ah, Seymour, qualcosa non va? Sonny, dove è finita l'allenatrice? È appena partita con il resto della squadra Alla volta del quartiere generale dell'Alius C'è qualche problema? Diamine, è troppo tardi! Ma di cosa sta parlando l'allenatore Hillman? Questa voce... È lei primo ministro vanguard? Perfetto, mi ascolti Cosa non vorrei dire che l'allenatrice è? Farò del mio meglio per raggiungere Mark al quartiere generale dell'Alius Anche Smith dovrebbe essere sulle loro tracce La contatteremo non appena avremo scoperto cosa sta succedendo A presto! Ma come è possibile che non ce ne siamo accorti prima? Mi era sembrato di averla già vista Questo spiegherebbe... Aquilina Schiller Tutto viene a galla ora Ora può accedere alla foresta del monte Fuji All righty then Bene ragazzi, stiamo per arrivare alla foresta del monte Fuji E così questa sarà la resa dei conti con l'Alius È giusta allenatrice? Sì Oh, ehi! Ma perché l'autobus straballa? Eh, Mark, insomma, siamo su una strada sterrata, eh? Oh! Oh, che succede, signor veteran? Perché si è fermato così bruscamente? Scusate ragazzi, temo che l'autobus non possa proseguire oltre Cosa? Ehi, guardate, è un fiume Come facciamo ad attraversarlo? Andrebbe esserci un fiume qui Probabilmente scorca dalle crepe aperte nella montagna dall'energia dell'Alius Cosa? Quelli dell'Alius sono così forti da spaccare le montagne Siamo ancora lontani dal quartier generale dell'Alius Arrivarci a piedi richiederebbe troppo tempo Troviamo un modo per arrivare sull'altra sponda con l'autobus Sì, 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 spingiamolo! Scott, ma che combina? È pericoloso Eh, cercavo solo di sdrammatizzare Sì, sì, sì Ehi, così qua devo Ehi, guardatelo! Quei tronchi sembrano abbastanza lunghi da abbassare il fiume da parte a parte Eh, vediamo... Oh, hai ragione! Pensi anche tu quello che penso io, Jude? Sì Potremmo usare quei tronchi per creare un ponte Ben detto Forza, non c'è tempo da perdere Facciamo un tentativo Potreste andare a recuperarli sull'altra sponda dei fiumi e farli arrivare di qua Trasportare dei tronchi? Dov'è che si può fare? Il signor veterano di otteneremo sull'autobus Assumi il controllo dell'operazione, Mark Va bene, allenatrice? Chi ha altri se non il capitano? Mark, non credi che l'allenatrice sappia un po' troppe cose sull'Alius? Sembra sapere già tutto sulla supernova e la sua potenza Hmm? Magari è perché fa un micchio di ricerche? Sa delle cose che nessuna ricerca al mondo avrebbe potuto svelare Jude, posso parlarti un minuto? Pensiamo tutti che l'allenatrice ci stia nascondendo qualcosa Affrontare l'Alius con questo spirito non è certo l'ideale per la squadra Ma Mark ha fiducia in lei E non dovremo fargli cambiare idea Si fila troppo Atterriamo d'occhio, non preoccuparti Ma è fondamentale che Mark creda in lei, d'accordo? Cosa fate gli imparati ragazzi? Dobbiamo posizionare quei tronchi tra una sponda e l'altra Attraversare il fiume Va bene, per il momento ci limiteremo a tenerla d'occhio Prendi i tronchi per attraversare il fiume Bene Vediamo un po' Oh, oddio qua ragazzi Qua è un puzzle assurdo questo C'era un modo per farlo Ma a ricordarsi qual è E qui, in questa zona Si trova una tecnica importante Però non mi ricordo quali sono i passi Da fare per trovarla Quale era la strada da percorrere C'è una tecnica davvero interessante Se solo mi ricordassi Come trovarla Divisa militare Questo? Benvenuto Compra Ah, ecco Era lui C'era lui Non è che si trovavano Si compravano Vediamo un po' per di qua Ah Si, questa me la ricordo Devo andare di là Mi sa Si Ah, non c'è niente Qui? Non dovrebbe esserci qualcosa? Ah Va bene Credo Strano Mi ricordavo ci fosse qualcosa lì Ah Ora mi ricordo che c'era lì Un giocatore Per reclutare un giocatore particolare Bisognava venire qui In quel posto lì preciso Si, mi ricordo di questo Mi ricordo Ehm 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 Dunque Ehm Ehm Devo andare di qua Ora Non lo so ragazzi Questa è Questa strada è particolare Ecco Qui c'è qualcuno che vende qualcosa E due forzieri Punti carisma E Qui Ehm Ehm Scarpini ribelli che dovrebbero essere più forti di quelli che abbiamo Bene Ho equipaggiato i miei calciatori E possiamo andare ora E dobbiamo scendere a questo punto Quasi sicuramente ci siamo Si 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 Bene Così Eccoci Ma Opa Loro La Kirkwood Ora Qui c'è la Kirkwood Ma l'affronterò in un altro momento Perfetto Andiamo Oh attenzione Eccolo Su Diamoci la fare con questi tronchi Ecco Ora l'autobus dovrebbe riuscire a passare Sean è un momento Ehm Ok Cosa vuoi da me? Non voglio parlare solo con te Sean Ho bisogno anche di Aiden Mark mi ha detto di Aiden e te Anche di ciò che è successo Capisco Prendi la palla Cosa? Tempo fa mi hai chiesto di mostrarti chi fosse il capo cannoniere della Raimon Beh Ora lo vedrai Prendi la palla Io Io non so più giocare a calcio Se non divento Aiden sono inutile in campo E' colpa mese dove riusciamo a mettere in atto l'energia della terra Ma non ho nemmeno il fegato di lasciare la squadra Solo diventando Aiden serve a qualcosa Smettila di piangerti addosso Hai la vaga di Aiden quando tutti fossero spaventati quando sei sparito? Non importa che tu sia Aiden o Sean Mark e la squadra ti accettono per tutto ciò che sei Tutto ciò che sono Anche io ero come te Avevo abbandonato il calcio a causa della mia sorellina Ma in verità era una scusa Davvero? Ma tu sei l'attaccante perfetto Non sono affatto perfetto Ascolta Ti piace il calcio non è vero? Sì ma non è sufficiente Io non sono bravo Se ne sono andati tutti perché non sono abbastanza bravo Mamma, papà, Aiden Anche Kevin Devo essere perfetto Non metto di far parte della squadra se non lo sono Non potrei mai riuscirci da solo Solo insieme agli altri potrei raggiungere la perfezione Cosa? Leggiando con Mark dovresti averlo capito Ti fa sentire come se non fossi mai solo Io non sono solo Certo che non lo sei Sean Ragazzi Voi stavate ascoltando Nessuno di loro è diventato un buon giocatore per il proprio conto Siamo tutti migliorati insieme È proprio così Sean Siamo qui per aiutarci a vicenda Forza Siamo tuoi amici Non devi affrontare problemi da solo Ragazzi Voi Non sei solo Sean Hai tutta la squadra a tuo fianco Quindi Posso rimanere con voi Ma certo Sean Resta per giocare a calcio e divertirti con noi Forse Non avevo motivo di preoccuparmi tanto Io Io Noi siamo Sean Frost Siamo sempre stati una sola persona Così hai capito finalmente Ce ne è voluto di tempo Sean Aiden Dopo tanto tempo ti sei reso conto di non essere solo Di avere degli amici Aiden Hai fatto in modo che ci unissimo a quelli dell'Alius Solo perché io me ne accorgessi Chissà Aiden Aiden dove stai andando? Dove? Sono sempre stato solo nella tua mente Sean E ora non hai più bisogno di me O sbaglio Aiden Su Dai non fare quella faccia triste Aiden io dipendevo da te Anche se eri solo frutto della mia mente Anche se non lo devi a vedere So che anche per te è duro lasciarmi Ma ora sto bene La squadra E io Insieme saremo perfetti Anch'io veglierò su di Tation Da profondo del tuo cuore Beh Abbi cura di Tation Grazie Aiden Eccolo Il vero Sean Frost Mark Devo chiederti un favore Potresti tenere questa per me E' la tua sciarpa Quella che tuassi sempre? Sì Apparteneva a Aiden L'ho conservata in suo ricordo Ma ora non ne ho più bisogno Ho capito che Aiden è proprio qui Con me Wow Ok Sean La conserverò per te Grazie Mark Anche a te Axel Grazie a tutti E di cosa Sean? Bene Torniamo all'autobus E' ora di fare rotta Verso il laboratorio Di Signore delle Stelle Bene Bene Aggiungi un nuovo giocatore Alla squadra Ottimo Gli ho insegnato Furia del Drago Ma Non ha senso Su Sean Furia del Drago Anzi Proprio Debolissima Su un calciatore Come lui Ottimo lavoro Mark Adesso possiamo ripartire Presto dovremo raggiungere Il laboratorio Di Signore delle Stelle Sia dell'Atrice Ascoltate bene ragazzi Questa sarà l'ultima partita Che disputeremo Contro l'Alius Facciamogli vedere Cosa sappiamo fare Sì Ci siamo Ora può accedere Il laboratorio Di Signore delle Stelle Wow Allenatrice Guardi là Esattamente Dove siamo Diretti Eccolo Il quartier generale Dell'Alius Academy E così è sempre stato qui Già È arrivato il momento Della resa dei conti Forza Dobbiamo entrare Sì Un momento Allenatore Hillman Sono convinto Che ci sia Un traditore Tra di noi Cosa vuole dire Dopo interminabili ricerche Ho scoperto La verità Sull'Alius Stavate per finire Dritti In una trappola E la responsabile È lei Cosa Un momento Sta cercando di dirci Che la nostra allenatrice Ci avrebbe ingannato Potrebbe almeno Spiegarci meglio Aquilina Schiller Lei è la figlia Di Astram Schiller Non è vero Astram Schiller Eh ma non si tratta Dell'uomo in combutta Con l'Alius Colui che progetta Le armi prodotte In questo posto Esattamente Astram Schiller È fondatore E direttore generale Del gruppo Schiller Nonché padre Della vostra allenatrice Vuole dire Che la mente Di Trolladius Academy È il padre Della nostra allenatrice Non può essere Allenatrice È la verità No Cosa sta tramando Lina Perché è diventata Allenatrice Della Raimon Ehi Forse è una spiega Dell'Alius Ecco perché volevo Che affrontassimo All'Alius Senza nemmeno Aver perfezionato Le mega tecniche No Il mio unico obiettivo Era sconfiggere L'Alius Lo giuro Non ho mentito Al riguardo Io Io le credo Celia È un grosso shock Anche per me E penso che L'allenatrice Avrebbe dovuto Dircelo Ma Tutte le intenzioni Creatate dalla squadra Ci hanno aiutato A vincere Contro l'Alius Non l'avrebbe fatto Se fosse stata Una spia Celia Dici sul serio Anche io credo All'allenatrice Ma Marco Lei Allenatore Hillman Dobbiamo avere fede In lei Se i giocatori Non si fidano Del proprio allenatore Non hanno speranza Di farcela in campo Mark Grazie Sei testardo Come un mulo Mark Proprio come Il tuo nonno Lina Finché Lo spoglio Della sua parte Si consideri L'allenatrice Della Raimon Ma si ricordi Che ha pur sempre Una responsabilità Nei confronti Di questi ragazzi Faccio una mossa Farsa E se la vedrà Con me È chiaro Chiaro Bene A fare fatto Allora Mark Da questo momento In poi Verrò con voi Seguiamo tutti Allegramente La figlia Del cattivo Cos'è Uno scherzo Tutto Sarà chiarito A tempo Debito Forza Muoviamoci Signor Veteran Quando vuole Agli ordini Vediamo La strada Sembra farsi Un pochino Accidentata Tenetemi Forte Ciurma Certo che Visto da vicino È davvero Enorme Finalmente Ci siamo Ci picchi ragazzi Qui che sarà Wow Questo posto È enorme Com'è possibile Che nessuno L'avesse mai notato E così Questo sarebbe La basa Dell'Alius Non fa venire I brividi Beh I ribagni pubblici Non ce ne sono Qui interno Jack Mi sa che te lo dovrai tenere Xavier Genesis Stiamo arrivando Calmati Mark Non possiamo penetrarla dentro Come se niente fosse La base È dotata di un sofisticato sistema di sicurezza Tutte le porte sono sigilate elettronicamente Ma posso sbloccarle da qui Ci vorrà solo un istante Wow Cosa servono tutti quei fili Dovrebbero darmi accesso al loro sistema di sicurezza Silvio Annelli Celia Avrò bisogno del vostro aiuto qui Ehm Ok Resto anch'io Non si sa mai che voglia tirarci qualche scherzetto Mark Tu e la squadra Cercate di trovare la Genesis D'accordo Non si preoccupi Mi fido della nostra allenatrice L'allenatrice Sembra avere familiarità con questa base C'è già stata prima? Senza dubbio Ma il punto è Cosa avrà in mente ora? Oh Detective Smith Era ora Gregory Chiedo scusa Seymour C'è stato un intoppo Abbiamo ottenuto il mandato di perquisizione Della residenza di Astram Schiller Capisco Ebbene Non l'abbiamo preso Perché si trova qui alla base Ho ragione Sì dovrebbe essere qui Signorina Avrò altre domande da farle Ma rimandiamo a più tardi Ora la nostra priorità è fermare l'Alius Academy Probabilmente ci stanno sorvegliando anche ora mentre parliamo Non c'è tempo da perdere Sono d'accordo Mettetevi in marcia Mark Io vi guiderò da qui Mi raccomando non fate sciocchezze Sì allenatrice Sì allenatrice Genesis Stiamo arrivando Bene Ci siamo quasi La Ramon Eleven è penetrata nella base Signore Sul serio? Allora solo questo piano di tempo Prima che Aquilina e gli altri Comprendano il mio piano in tutta la sua gloria Occupati dei preparativi Wise Come desidera Signore Aquilina Per quale motivo mi disprezzi tanto? Perché non capisci? Puoi sempre contare su di me padre? Io direi che con questo si conclude anche questo episodio di Nazion Eleven 2 Tempesta di fuoco Nel prossimo Attraverseremo tutta quanta la base dell'Alius Academy E affronteremo una volta per tutte sconfiggendola la Genesis Quindi io Kuj come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo video In descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi Noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video Bye bye Ciao Ciao Ciao